ciao ragazzi bentornati sul mio canale oggi voglio fare una recensione dei nuovissimi biscotti della nutella li ho trovati al supermercato super rispammioso sono un po' difficili a trovarli a parte perché sono veramente nuovissimi allora la busta è di 304 grammi sono della nutella ferrero andiamo a vedere anche il retro della confezione qua ci spiega i valori nutrizionali la scadenza all'interno abbiamo biscotto con farcitura di crema alla nocciola e al cacao nutella ingredienti crema alle nocciole al cacao 40% zucchero di palma nocciole 13% latte scremato in polvere 8,7% cacao magro 7,4% emulsionanti neticina poi farina di frumento 32% grassi vegetali zucchero di canna 9% lattosio crusca di frumento latte intero in polvere estratto di polveri di di malto d'orzo e mais miele agenti levitanti poi abbiamo cacao magro sale amido di frumento farina di orzo maltato emulsionanti e soia e vanillina allora questi sono gli ingredienti è veramente molto bella sia la confezione che il biscotto adesso ve lo voglio mostrare eccolo qua veramente molto bello il biscotto ha questo bellissimo cuore con al centro la n di nutella e come possiamo vedere ha questo cuore di nutella sono riusciti a incastrare diciamo questo disco superiore perfettamente al centro facendo uscire solo questo piccolo bordo di nutella veramente ottimo allora il biscotto è molto croccante fuori ma poi una volta dato il morso si troverete questo bellissimo cuore di nutella che si scioglie in bocca ve lo consiglio allora questo è il retro del biscotto adesso ve lo voglio aprire così vediamo insieme come si presenta all'interno allora prendo un attimo il cortello ecco qua guardate qua c'è veramente morta nutella è un binomio favoloso io direi di provarli assolutamente poi il prezzo è 2 99 quindi non è che costano proprio tantissimo per chi è amante della nutella è una cosa che non deve lasciarsi sfuggire è la giusta quantità non troppo e nemmeno poco bellissimo questo vi rifaccio vedere il biscotto intero sono veramente eccezionali da provare vi rifaccio vedere di nuovo la confezione fatemi sapere qui sotto nei commenti se voi l'avete già assaggiati se li avete visti nei supermercati su youtube perché io su youtube già li ho visti in qualche video e poi l'avevo visti diciamo su internet diciamo qualche negozio online però da vicino non li avevo ancora visti fino a ora li ho trovati solo da supermercato super ispambioso che dire spero che questo video vi sia piaciuto lasciate un like iscrivetevi al canale e noi come sempre ci rivediamo in un prossimo video